Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Can you hear that feeling? Il terremoto e le nuove crepe che sempre più velocemente appaiono in mappa. Parleremo anche ovviamente della season 8 con alcuni rumors che ci sono e che stanno cominciando a viaggiare nei dietro le quinte del gioco. E ovviamente ragazzi non mancheranno leaks su skin segrete in arrivo su eventi e su tante altre cose. Voglio ringraziare davvero tutti di cuore per utilizzare il mio codice supporto creatore XIUDERONE. Grazie mille ragazzi per il grande sostegno che date al canale. Mi raccomando di iscrivervi e soprattutto... Non dimenticatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna news e nessun video. Ma prima ragazzi la domanda. Che cosa ve lo dico a fare? La domanda. Ci tengo tantissimo che rispondiate proprio qui sotto nei commenti ed è una domanda ragazzi davvero molto molto semplice. Qual è finalmente visto che l'abbiamo sbloccato la tua fase preferita del prigioniero? Ve l'avevo già chiesto eh settimana scorsa ma adesso le abbiamo tutte e quattro. Qual è la tua preferita? Dimmi un po'. La mia ragazzi mi piace l'ultima fase veramente veramente tanta roba ragazzi. L'ultima fase del prigioniero è davvero OP. Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance. Parliamo subito ragazzi della posizione per chi ancora non lo avesse fatto. La posizione esatta dove potrete sbloccare appunto la quarta fase del prigioniero. In alto a destra nella mappa tra il bosco blaterante e il quartiere in quella montagna dove vi ho segnato il punto e ho cerchiato appunto l'area. Troverete delle ampolle che prenderanno fuoco non appena atterrerete con il vostro personaggio. Automaticamente verrà sbloccata la fase numero quattro e quindi il prigioniero sarà finalmente completato. Davvero tanta tanta roba. Ma andiamo avanti e guardiamo invece le nuove crepe. Questa ragazzi è la crepa numero sei. Ringrazio per questa immagine gli amici di Loot Lake. Questa crepa ragazzi come vedete è dietro al quartiere. Quartiere che tra poco cambierà nuovamente. E se andiamo ragazzi a dare un'occhiata in una maniera un po' più approfondita. Quella che state vedendo in questo momento non è altro che la mappa aggiornata con tutte sei le crepe. Guardate ragazzi come ci sono le due crepe vicino a passatempi pomposi. L'ultima crepa a destra del quartiere. Un'altra sotto al bosco blaterante. E due crepe proprio vicino alla come si dice più sopra di Corso Commercio. In poche parole le vedete quelle due crepe. Stanno cominciando ragazzi a delineare l'area di mappa che molto probabilmente si staccherà. Non sappiamo bene ancora la forma dell'area che verrà staccata. Ma dovrebbe comunque essere una porzione davvero super grande. Tra l'altro seguendo questa tabella ragazzi vi ricordo che vi basta semplicemente addizionare sei ore all'orario che state vedendo qua per capire per noi quando arriverà la crepa successiva. Come vedete ragazzi le crepe sono 25 ce ne saranno tantissime. Vedremo ovviamente giorno per giorno gli aggiornamenti e se ci sono novità per quello che riguarda appunto il distaccamento. Ma andiamo avanti e parliamo molto velocemente anche di una delle nuove modalità a tempo limitato che arriveranno in questo finale di stagione. Mancano ormai 10 giorni al termine della season 7 e all'inizio della season 8. La community di Reddit e anche di Twitter si era un po' sollevata come noi anche quando avevano inserito l'Infinity Blade nelle partite in singolo e allora Epic Games dopo averla rimossa dopo pochissimi giorni decide finalmente di reinserirla nella modalità a tempo limitato. È una modalità praticamente quasi normale dove però la particolarità è il ritrovamento di armi esclusivamente epiche e leggendarie e di tanto in tanto un Infinity Blade. Quindi ragazzi molta molta roba anche per questa modalità a tempo limitato che troverete disponibile nella vostra lobby. Ma andiamo avanti e parliamo invece di un'altra cosa super interessante. Quella che state vedendo alle mie spalle è un'immagine pubblicata ufficialmente sulla pagina Twitter di Epic Games. E vista così ragazzi magari di primo acchito può sembrare un'immagine normalissima. Ma se aguzzate la vista e vi faccio uno zoom ragazzi guardate che cavolo si nasconde là in basso. Esatto ragazzi quella dovrebbe essere un piccolo spoiler della skin Rhino. Una skin molto interessante perché alcuni leakers dicono che in realtà si chiamerà Mechanical Rhino. Quindi il rinoceronte meccanico. Un'ulteriore skin a tema robot insieme a quelle che arriveranno in questi giorni prima del termine della season. Ve le avevo fatte vedere giovedì con la patch se non ricordo male. Sì è arrivata giovedì la patch. Un'altra skin a tema meccanico. Una skin che in molti stanno aspettando perché dovrebbe essere veramente molto molto bella. Anche io effettivamente non vedo l'ora di vederla perché si parla del Rhino da parecchi giorni. Ma ancora purtroppo non è stata vista in maniera ufficiale. Ma andiamo avanti e per tutti gli amanti della Thompson in inglese chiamata drum, gun, drum, gun in poche parole ci sono grandi novità. Beh ragazzi da poche ore nei file di gioco è stato di nuovo inserito il valore della Thompson. Come vedete ragazzi la prima riga quella che è evidenziata in verde e la seconda che fanno parte della stessa arma si chiamano Assault Autodrum. Quindi loro la chiamano in questo modo quindi Autodrum è la Thompson. Non sappiamo però quando verrà reinserita sappiamo che è stata ripresentata nei codici del gioco e quindi ragazzi staremo a vedere in quanto tempo potrebbe ritornare. Magari addirittura senza preavviso anche se secondo me potrebbe arrivare con la patch del 26 febbraio. L'ultima di questa season la patch che porterà Fortnite alla versione 8.0. Andremo a vedere ovviamente vi terrò aggiornati. Ma parliamo molto velocemente della fase finale della cosa più interessante di questo video che non è altro che questa immagine presa direttamente in game. Anche se noi non la possiamo vedere questa ragazzi è un'immagine che ci mostra come intorno a Bosco Blaterante ci sia della terra bruciata e non è assolutamente un fake ma ce lo conferma anche quest'altra immagine direttamente postata da Epic Games sempre sulla loro pagina Twitter. Come vedete ragazzi intorno al bloc c'è uno scolorimento molto evidente del terreno quindi ragazzi la terra bruciata arriverà sicuramente. Voglio farvi vedere una cosa prima di salutarvi ragazzi ringraziamo gli utenti Sheena e I'm Halfy. Queste ragazzi sono immagini esclusive della mappa che vedremo in game fra pochissimi giorni. E se agguzzate la vista ragazzi noterete che la terra non è assolutamente verde ma sta cominciando ad appassire a prendere un colore marroncino bruciacchiato insomma molto probabilmente la lava o quello che c'è sotto la terra sta per venire fuori e anche noi sicuramente molto presto in game lo vedremo. Beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video news mi raccomando eh non perdeteli perché in questi giorni sono video importantissimi se volete scoprire quello che ci aspetterà nella prossima season. Iscrivetevi intanto al canale noi ci vediamo presto ciao e non parte mai l'altro. Iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao e non parte mai l'altro.